Castagnetti, allarga, Selar, Castagnetti controlla e tira, Castagnetti ancora Perisian impreciso, Ciofani sottoporta, da terra segna, il gol è buono, il gol è buono, ha segnato Ciofani, Cremonese di nuovo avanti, 2 a 1. A meno di 2 minuti dalla fine, rimette la testa avanti la Cremonese e lo fa con Daniel Ciofani. Come un ga, la gira, Castagnetti recupera, poi in verticale subito la sponda buona di Selar per Valeri che arriva, sono in tanti quelli della Cremonese e Ciofani in qualche modo segna il gol dell'1 a 0 a mezz'ora dalla fine, il gol dell'ex è cresciuto nel pescare a Ciofani, lo punisce stasera entrando dalla pacchina. Un gigante lì dietro, Vicari, una partita almeno da 7 per il centrale di difesa della spalla, alto cross, dentro l'area di rigore, pizzicata, Ciofani in acrobazia, Daniel Ciofani esulta e segna il secondo gol consecutivo, pareggia la Cremonese, aveva voglia di segnare. Balsania per Ciofani, all'indietro Castagnetti, una grande apertura a premiare il movimento di Baez che ha tanto spazio, l'isieme a coprire con Meroni, Baez va su sinistra, accelera il cross per Ciofani! Che azione meravigliosa della Cremonese che fa 2 a 0 all'undicesimo, da vedere e rivedere! La rincorsa di Ciofani va a Ciofani che sceglie quell'angolo, non può arrivarci Pomini, si tuffa dalla stessa parte, ancora un gol per Daniel Ciofani! Ciofani diventano 5 in campionato, questo l'arrivo di Daniel Ciofani che si prende il rigore e lo trasforma nel gol del 2 a 1, 4 minuti tutti! Spiazzato Ioronen, Ciofani pareggia il derby, 1 a 1! Aie Ciofani, erano gli uomini copertina di questa partita, timbrano entrambi! Tampa però su Bisoli, raccoglie e colpisce di testa Fior Daliso, Idem Gaetano, la bandierina resta bassa, Valsania ad aprire su Baez, 1 contro 1 con Pagliazz, Baez le finte, fa saltare a vuoto Pagliazz e poi colloca sulla testa di Ciofani per il raddoppio della Cremonese! Baez per Ciofani, colpisce ancora Daniel Ciofani! Rimassa con le mani a cercare Ciofani dentro l'area, pallone allontanato, Gustafsson Baez la lascia lì per l'inserimento di Bartolomei, dentro per Ciofani! Arriva anche il poker e non esulta lui che è il grande ex, ma la Cremonese vola sulle ali del 19! Profondo da Ciofani Bartolomei Arriva Pinato, posizione pericolosa Pinato alza bene per Ciofani che va d'impatto di testa! 2 a 1 A meggiorini Poteva rispondere solo il 19! Rientra in partita la Cremonese Buona ендirì! Allora Non Buona